Sul post che ha scritto nel blog Beppe Grillo è evidenziata quella che in realtà era la volontà dei senatori. Avevano dichiarato di voler rassegnare le proprie dimissioni, ovviamente rassegnare le dimissioni dal Senato equivale a rassegnarle anche dal Movimento 5 Stelle. Ci aspettiamo coerenza, questo significa che le loro dimissioni per noi comportano cooptare chi era dopo di loro, in maniera che il gruppo si possa riconsolidare e continuare l'azione politica che è proprio del Movimento. Forte opposizione al sistema e possiamo farcela anche stavolta.